Allora... Aspettate eh... Allora regà, come cosa fa? Allora qualificano i limiti 3? ok? 7, 3 o secondi o anche prima con il margine che si è abbastato ok? l'altra cosa sono 8 ucili io ho a 3 ucili dalla 2 che si chiedono 3 poi 2 poi 1 poi finirà ok? si qualifica pure il 4 ucchio tempo quindi tranquilli divertitemi ok? al mio 3 si parte grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.